Ciao a tutti amici. Io faccio questi video per colmare la solitudine che sento e anche un po' per diradare l'angoscia che forse tutti abbiamo. Mi rendo conto che ogni tanto stecco, ma è perché non mi esercito mai e sono un po' quello che sento, che sento di dire ma non trovo le parole, come l'amore, il lavoro, che io vorrei ma non riesco a trovare. E allora faccio questi video cercando di comunicare questi sentimenti. Eccolo qui.